Sono Ivano Marescotti e io verrò da voi a leggere i libri delle vostre biblioteche, li leggerò per voi naturalmente se venite ad ascoltare. Vi farò vedere cosa c'è scritto nel libro, il libro in fondo è fatto di pagine e lettere morte, finché qualcuno non le legge, se voi avete l'occasione di qualcuno che legge per voi, è un'occasione da non perdere, perché io verrò ovunque in tutte le nove province della regione, verrò a Sant'Arcangelo, poi sarò a Ferrara, a Parma, a Bologna, a Modena, a Reggio Emilia, Piacenza, anche a Bagnacavallo, che è pure in mio paese, e a Forlimpopoli. Ecco, vi darò anche delle dimostrazioni pratiche per dire come si legge Dante Alighieri, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la direttia via, era smarrita, ma voi non la smarrite la diritta via, venite a leggere.